Bene, siamo qui oggi per la terza giornata, anzi quarta giornata dell'Oltre Economia Festival 2017 e siamo qui con Giuliana Marchi della comunità no Valdastico, salviamola Valdastico. Tra poco cominceremo una conferenza dal titolo Conflitti ambientali e comunità resistenti nell'ultimo anno abbiamo visto una ripresa della lotta contro la Valdastico Nord in particolare nella vallata della Valdastico, quindi nell'Alto Vicentino e proprio attorno alla creazione di comunità resistenti questa lotta si sta dando da fare. Vogliamo crederti semplicemente com'è la situazione adesso, così per tenerci un po' informati e tutti quanti. Grazie, allora la situazione è molto semplice, siamo di fronte a un'ennesima follia, un ennesimo paradosso di questo territorio. Siamo di fronte a un progetto che già negli anni 70 era stato sepolto in quanto considerato non economico e non necessario e adesso in un territorio, il Veneto, che non si fa mancare niente dal punto di vista della speculazione delle grandi opere, abbiamo pochi chilometri l'Ape de Montana che ha devastato un enorme territorio e che economicamente molto probabilmente dovrà essere pagata dallo Stato perché le imprese private non ce la fanno. Abbiamo tutto il territorio basso vicentino inquinato dai FAS con enormi problemi di salute, abbiamo tutta una serie di contraddizioni veramente pesanti che stanno depredando la possibilità di vita su questi territori, delle persone, la possibilità di sviluppo e la possibilità proprio di vivere dignitosamente. Adesso salta fuori l'ultima gallina dalle uova d'oro è questa autostrada 31. Questa autostrada 31 che di fatto non serve, costerà nei programmi una cifra assolutamente spropositata e determinerà soprattutto la definitiva morte di una valle, una valle anche molto bella e purtroppo una valle molto stretta, è una valle che non è stata attraversata dallo sviluppo economico, dall'industrializzazione negli anni 60, prima poi negli anni 90, che con questa grande opera diventerà un corridoio e finirà definitivamente, ci sarà qualsiasi possibilità di ritrovare la sua vocazione e di essere territorio di vita per le persone che la abitano.